Questa è una mazzata che per noi è insopportabile, non è una crociata fatta così per dire. Io credo e spero sinceramente che il Comune riveda questa posizione, perché non credo che il Comune d'Arezzo e la Giunta Fanfani vogliano essere ricordati nel futuro come quelli che hanno distrutto il sistema turistico alberghiero d'Arezzo. Io cito della Robbia, la Mostra della Minerva, i Castica, cose tutte che sotto l'aspetto artistico sono di grande importanza, possono portare qualcosa a livello promozionale, ma molto poco perché non vengono mai pubblicizzate fuori dalla città di Arezzo, ma sotto l'aspetto economico sono uno zero assoluto. Voi tra l'altro ovviamente lavorate con il tour operator, vi siete già impegnati per il 2014, la tassa sarà a carico dei turisti che magari coloro che hanno già prenotato si troveranno a questo costo in più. E questo dovrà essere l'amministrazione a spiegarmi come noi potremmo far, visto che oggi si lavora con i tour operator, già dei prezzi veramente concorrenziali e noi abbiamo già firmato dei contratti per tutto il 2014, barra anche il 2015, assicurando come noi sapevamo che la tassa di soggiorno non c'era, ora a questo punto mi trovo in grossa difficoltà e non credo che noi abbrigatori potremo anche supportarci di un ulteriore balzello. Oggi si perde o si prende una serie di gruppi per un euro di differenza. Porto l'esempio io nel mio hotel, io ho diverse comitive che si fermano a dormire da noi, il giorno dopo hanno la visita su Firenze o addirittura anche su Roma, però si fermano per noto nella nostra città proprio perché la tassa di soggiorno non viene pagata. La nostra paura è che, ho letto anche che il sindaco ha detto che tutti i comuni stanno ottenendo la tassa di soggiorno, ma su questo non lo metto in dubbio anche perché sono dei introiti per le casse comunali. Il problema è come questi soldi poi saranno spesi perché una volta che sono entrati nelle casse comunali poi la gestione viene fatta direttamente dai nostri amministratori.